La metamorfosi di Franz Kafka Quando Gregor Samsa si risvegliò una mattina da sogni tormentosi, si ritrovò nel suo letto trasformato in un insetto gigantesco. Giaceva sulla schiena dura come una corazza, e sollevando un poco il capo poteva vedere la sua pancia convessa, color marrone, suddivisa in grosse scaglie di curve. Sulla cima la coperta, pronta a scivolar via, si reggeva appena. Le sue numerose zampe, pietosamente esili se paragonate alle sue dimensioni, gli tremolavano disperate davanti agli occhi. Che cosa mi è successo? pensò. Non era un sogno. La sua stanza, una vera stanza, seppure piccola, per esseri umani era tranquillamente racchiusa tra le quattro pareti così familiari. Sopra il tavolo, sul quale era sparso un campionario di stoffe, Sams era un commesso viaggiatore, era appesa la figura che aveva recentemente ritagliato da un giornale illustrato e sistemato in una bella cornice dorata. Rappresentava una signora seduta tutta impettita, con un cappellino e un boa di pelliccia, che ostentava a chi la guardasse un ampio manicotto nel quale scomparivano i suoi avambracci. Lo sguardo di Gregor si rivolse poi alla finestra e il cattivo tempo. Si udiva la pioggia picchettare sulle parti metalliche della finestra. Lo rattristò completamente. Che accadrebbe se continuassi a dormire un altro po' dimenticando queste sciocchezze? Pensò. Ma non era proprio fattibile, perché era abituato a dormire sul fianco destro e nelle condizioni in cui si trovava non poteva assumere quella posizione. Per quanto si sforzasse di buttarsi verso destra, ripiombava sempre nella posizione supina. Ci provò un centinaio di volte, chiuse gli occhi per non vedere le zampe annaspanti, e rinunciò solo quando cominciò a sentire sul fianco un dolorino sordo, mai provato prima d'allora. Oddio, pensò, che mestiere faticoso mi sono scelto. Sempre in giro, un giorno dopo l'altro. L'affanno per gli affari è molto maggiore che nell'azienda. Inoltre devo sopportare anche questa piaga del viaggiatore, i cruci per le coincidenze, i pasti regolari e cattivi, rapporti umani sempre mutevoli, mai costanti, mai cordiali, che vada tutto al diavolo. Provò un leggero prurito sulla pancia. Si trascinò lentamente sul dorso, verso la testata del letto, per poter sollevare meglio il capo. Localizzò la parte che gli prudeva, e che era cosparsa di puntini bianchi, di cui non riusciva a spiegarsi la causa. Vole toccare la parte con una zampa, ma la ritirò subito, perché il contatto lo fecerà brividire. Scivolò nuovamente nella posizione di prima. Queste continue levatacce, pensò, finiscono per rincitrullire. Ogni essere umano ha bisogno delle sue giuste ore di sonno. Gli altri viaggiatori di commercio fanno una vita da pascià. Quando torno alla locanda, nel corso della mattinata, per trascrivere le ordinazioni ricevute, quei signori stanno appena consumando la prima colazione. Se facessi una cosa simile col principale che mi ritrovo, verrei cacciato su due piedi. Chissà, però, se non sarebbe meglio per me. Se non cercassi di dominarmi per far piacere ai miei genitori, avrei dato le dimissioni da lungo tempo. Sarei andato dal principale, e gli avrei detto, chiaro e tondo, come la penso. L'avrei fatto cadere alla sua cattedra. È anche una strana abitudine quella di mettersi in cattedra e di parlare dall'alto con i dipendenti, che oltretutto devono venire assai vicino a causa della sordità del principale. Comunque non tutte le speranze sono perdute. Quando avrò raggranellato abbastanza soldi per pagare il debito che i miei genitori hanno verso di lui, e non ci dovrei mettere più di cinque o sei anni, mi licenzierò senz'altro. Sarà un taglionetto. Intanto, però, devo alzarmi. Il mio treno parte alle cinque. E guardò la sveglia che ticchettava sul cassettone. «Santo cielo!» Esclamò tra sé. Erano le sei e mezza, e le lancette proseguivano tranquillamente il loro cammino. Anzi, era ancora più tardi. Mancava poco ai tre quarti. Forse la sveglia non aveva suonato? Si vedeva benissimo anche dal letto, che era stata fissata sulle quattro. Aveva suonato sicuramente. Sì, ma era mai possibile continuare a dormire pacificamente con quel frastuono che scuoteva i mobili? In verità, non aveva dormito proprio pacificamente. Però, forse, per questo il sonno era stato più pesante. Che cosa doveva fare ora? Il prossimo treno partiva alle sette. Per prenderlo, avrebbe dovuto sbrigarsi come un matto. Il campionato non era ancora sistemato, e lui stesso non si sentiva particolarmente sveglio e attivo. E anche se avesse preso quel treno una sfuriata del principale, sarebbe stata inevitabile, perché l'usciere della ditta aveva atteso al treno delle cinque e aveva già riferito la sua mancanza. Era una creatura del padrone, senza spina dorsale né in comprendonio. E se si fosse dato per malato? Ma ciò sarebbe assai penoso e sospetto, perché durante i suoi cinque anni di servizio, Gregor non era mai stato malato. Sicuramente il principale sarebbe venuto con il medico della cassa malattia, avrebbe rimproverato i genitori per la pigrizia del loro figlio, e avrebbe troncato qualsiasi obiezione, rimettendosi al parere del medico della cassa malattia, per il quale esistono soltanto persone sanissime o pelandroni. Egli si poteva poi dare torto nel suo caso. Gregor, a parte il sopore eccessivo dovuto al lungo sonno, si sentiva veramente bene e aveva persino una gran fame. Mentre questi pensieri gli turbinavano per la mente, e senza che si decidesse a lasciare il letto, proprio in quel momento la sveglia faceva le sei e tre quarti. Venne bussato lievemente alla porta, che si trovava vicino alla testata del letto. Gregor, mormorò una voce, era la mamma, «Sono le sette meno un quarto! Non dovevi partire?» La dolce voce. Gregor sussultò, udendo la propria voce, mentre rispondeva, che era indubbiamente ancora quella di prima, in cui si mescolava però dal basso un insopprimibile frenire fastidioso, che solo in un primissimo momento lasciava alle sue parole un suono integro, ma poi lo deformava al punto da far credere di aver udito male. Gregor avrebbe voluto rispondere fornendo tutti i particolari, ma in simili condizioni, si limitò a dire, «Sì, sì, grazie mamma, mi sto alzando!» La porta chiusa impediva che fuori si notasse il cambiamento della voce di Gregor, perciò la mamma rassicurata se ne andò strascirando i piedi. Ma il breve dialogo aveva rivelato agli altri membri della famiglia che contro ogni aspettativa Gregor si trovava ancora in casa, e il padre si era già messo a bussare alla porta, debolmente, ma col pugno. «Gregor! Gregor!» gridò. «Cosa c'è?» E dopo un breve intervallo tonò con voce più profonda. «Gregor! Gregor!» Dietro l'altra porta, la sorella bisbigliava. «Gregor! Non ti senti bene? Hai bisogno di qualcosa?» «Gregor» rispose in entrambe le direzioni. «Sono già pronto!» e si sforzò di eliminare ogni suono strano dalla sua voce, scandendo le parole con molta cura e separandole con lunghe pause. Infatti, il padre tornò alla sua colazione, ma la sorella mormorò «Gregor! Apri, te ne supplico!» Gregor non pensava proprio di aprire, anzi si compiaceva dell'abitudine presa nel corso dei suoi viaggi di chiudere a chiave le porte durante la notte, anche quando si trovava in casa propria. Per prima cosa, voleva alzarsi indisturbato, vestirsi, e soprattutto fare colazione, e soltanto dopo avrebbe pensato al resto. Ormai si era reso conto che, riflettendo a letto, non sarebbe mai giunto a nessuna conclusione. Si rammentava di aver sentito più volte, mentre era ancora coricato, una fitta, forse provocata da una posizione sbagliata, che poi, una volta alzato, si era dimostrata pure immaginazione, e ora era curioso di vedere come le sue odierne fantasie sarebbero sfumate a poco a poco. Non aveva alcun dubbio che il mutamento della voce non fosse altro che il prodromo d'un bel raffreddore, una malattia professionale di viaggiatori di commercio. Buttar via la coperta era molto semplice. Bastò che egli si gonfiasse un poco ed essa cadde da sola. Ma, dopo, le cose si fecero più difficili, soprattutto perché era così largo. Avrebbe avuto bisogno di braccia e di mani per sollevarsi. Invece aveva solo quelle numerose zampette che gli si agitavano continuamente e che non riusciva a dominare. Se voleva piegarne una, accadeva, invece, che la prima si drizzasse e quando riusciva a fare il movimento che si era proposto con una zampa, le altre lavoravano come se fossero indipendenti con una turbolenza dolorosissima. «Basta non trattenersi al letto senza scopo», disse tra sé Gregor. Prima volle scendere dal letto con la parte inferiore del corpo, ma questa parte inferiore, che egli d'altronde non aveva ancora visto e di cui non riusciva neppure a farsi un'immagine esatta, si rivelò assai impacciata. Tutto andava così lentamente e quando, alla fine, ormai furente, si spinsero avanti senza alcun riguardo, dopo aver chiamato a raccolta tutte le sue forze, sbagliò direzione e batte violentamente sulla spalliera inferiore del letto, accorgendosi che proprio la parte inferiore del suo corpo era attualmente la più sensibile. Perciò tentò ad uscire dal letto con la parte superiore del corpo e girò cautamente il capo verso la sponda. Questo gli riuscì facilmente e, nonostante la larghezza e il peso, la massa del corpo seguì lentamente la direzione della testa, ma quando la testa sporse, finalmente libera, fuori dal letto, egli ebbe paura di continuare a quel modo, perché se si fosse lasciato cadere in terra in una simile posizione, sarebbe stato un vero miracolo non ferirsi alla testa. E ora, non doveva assolutamente perdere i sensi, preferiva restare al letto. Ma quando riuscì a giacere come prima, anzi mando, per aver compiuto una fatica pari alla prima, e vide le sue zampette lottare fra loro in maniera persino più violenta, e non riuscì a trovare alcun mezzo per mettere un po' di ordine in quel bailame, si convinse che non era possibile restare a letto e che bisognava affrontare qualsiasi sacrificio pur di uscirne fuori. Inoltre, si ricordò che una riflessione serena, anzi più che serena, era di gran lunga migliore di una decisione presa in un momento di disperazione. In simili momenti, usava fissare la finestra, ma purtroppo, la vista della nebbia mattutina, che nascondeva persino il lato opposto della stretta via, non poteva infondere fiducia e allegria. Già le sette, disse tra sé al nuovo scattare dell'ora, già le sette e c'è ancora una nebbia simile, e per un poco rimase tranquillo, respirando debolmente, come se si attendesse, dalla quiete assoluta, il ritorno delle condizioni normali.